Ciao a tutti, io sono Francesco De Luca e sono di Inghilterra, però mio papà è di Castrovillari. Ho 18 anni e sono in un anno sabbatico prima dell'università. Sono qui già un mese a Castrovillari per conoscere le radici della mia famiglia, ma anche usi, costumi e tradizioni della vostra e della mia terra. Naturalmente per migliorare il mio italiano. Ho già fatto un mese di internship a fianco di Carlo Cattucci e Anna Rita Cardamone in riprese e montaggi. In questo momento si sta chiedendo perché sono qui. Ebbene, parte di questo anno io voglio dedicare il mio tempo ad aiutare il prossimo e ho bisogno di tuo aiuto. Da febbraio sarò tre mesi in Costa Rica e Nicaragua con un'organizzazione che si chiama Raleigh International. In questo tempo lavorerò su progetti di ricostruzione di case, scuole e strade. Questa organizzazione chiede la raccolta di 3.000 sterline. Ed è qui ho bisogno della tua generosità. Insieme possiamo cambiare le vite di molte persone che oggi soffrono. E soffrono per la mancanza delle cose necessarie per vivere. Io potrei essere lo strumento del tuo aiuto. Tengo molto a precisare che le spese del mio viaggio saranno coperte interamente dalla mia famiglia. Le donazioni sono semplici da effettuare. Basta andare sul sito www.justgiving.com slash friendsride Grazie per la tua attenzione. Io conto molto sul tuo aiuto. Grazie a tutti. Grazie.